Serie di Fibonacci utilizzando Octave o Matlab Fermo restando che con Matlab la funzione che implementa la serie di Fibonacci è già disponibile notiamo che effettivamente questa cosa non è disponibile su Octave infatti se andiamo a digitare Fibonacci ci viene detto che è una funzione non definita molto probabilmente scaricando dei pacchetti aggiuntivi con Octave si riesce anche a recuperare questa funzione non ho indagato devo dire la verità perché il mio obiettivo non è quello di farvi vedere come funziona una funzione built in di Matlab non so nemmeno se sia built in in realtà comunque come funziona una funzione già messa a disposizione da Matlab ed eventualmente se la si riesce a trovare già messa a disposizione anche per Octave perché l'obiettivo principale di questa semplice esercitazione è quella di implementarci una funzione nostra che ci genera la serie di Fibonacci questo perché può essere un utile esercizio di programmazione di base utilizzando Octave o Matlab come sempre NPR Online Technologies vi propone la programmazione con Octave visto che Octave è un software che si può scaricare gratuitamente e dal momento che una volta scaricato non ci troviamo questa funzione di Fibonacci già disponibile anziché andarla a cercare chissà dove proviamo ad implementarla innanzitutto dobbiamo ricordare come viene generata la serie di Fibonacci in particolare questa serie comincia con due valori 0 e 1 poi lo 0 viene addirittura rimosso nel momento in cui appunto la serie viene generata Fibonacci diceva adesso c'hai due numeri sommali assieme quindi 0 più 1 e il risultato mettilo dentro questa serie quindi un 1 adesso per continuare la serie Fibonacci diceva somma tra di loro gli ultimi due numeri di questa serie gli ultimi due numeri di questa serie sono 1 e 1 quindi 1 più 1 fa 2 e così via se vogliamo generare un nuovo numero di questa serie è sufficiente sommare questi due ultimi valori della serie preesistente quindi 1 più 2 fa 3 poi abbiamo 2 più 3 che fa 5 3 più 5 che fa 8 e così via insomma fino a quando non vogliamo fermarci si tratta quindi di sommare sempre gli ultimi due numeri di questa serie per generare quindi il valore successivo di questa serie sembra abbastanza semplice proviamo quindi a questo punto a implementarci la nostra serie di Fibonacci quindi ci creiamo un bel file che chiamiamo mia Fibonacci e che conterrà la nostra funzione che implementa la serie di Fibonacci ci aspettiamo ed effettivamente ciò accade che Octave ci segnali che questo file non esiste quindi ce lo andiamo a creare lo ripuliamo da tutti i commenti che Octave aveva inserito togliamo funzioni che abbiamo analizzato in altri video e ci andiamo a scrivere la nostra funzione per indicare che è una funzione dobbiamo ricordare sempre dobbiamo inserire la keyword function seguita poi dall'output che questa funzione produrrà in realtà sì, vabbè, produciamo un output in realtà per quello che sono gli scopi di questo semplice esercizio possiamo anche evitare di produrre una variabile di output possiamo semplicemente all'interno della funzione stampare a video la serie comunque per essere più precisi mettiamo la variabile di output la chiamiamo serie quindi conterrà tutti i valori della serie di Fibonacci poi si inserisce l'uguale seguito dal nome della funzione mia Fibonacci abbiamo deciso di chiamarla così o meglio, ho deciso di chiamarla così e poi questo mia Fibonacci per esempio potrebbe contenere un numero n grande ad esempio n grande potrebbe indicare quanti valori vogliamo di questa serie ad esempio nella finestra dei comandi abbiamo visto che dov'è la serie? 0, 1, 1, 2, 3, 5 e 8 lo 0 poi scompare in genere la serie di Fibonacci viene presentata in questo modo qui anzi il primo 1 lo 0 sicuramente non viene fatto vedere alcuni non mostrano nemmeno l'1 comunque noi ci atteniamo a questa convenzione qui ma poi si può cambiare chiaramente e allora dire che la nostra mia Fibonacci avrà in ingresso questo n grande uguale a 5 vorrà dire che dovrà stampare i primi 5 numeri della serie quindi 1, 2, 3, 4 e 5 fermarsi al 5 se invece specifichiamo 6 allora ci dovrà stampare a video anche 8 se specifichiamo n uguale a 3 ci stamperà questi primi 3 valori va bene ci siamo capiti quindi a questo punto dobbiamo arrivare a stampare n valori della nostra serie li stampiamo e poi li metteremo anche all'interno di questa variabile di output bene cominciamo a scrivere il codice vi dico già che non l'ho scritto prima non ho provato a scriverlo prima quindi ci sarà anche qualche ragionamento probabile su cui io ritornerò indietro ci saranno dei tentativi che proverò a fare spero di non doverne fare tanti di azzeccare da subito la soluzione giusta allora il primo problema è che la nostra serie per poterla automatizzare parte da 0 abbiamo visto perché lo 0 mi serve per poter fare la somma tra 0 e 1 e generare quest'altro 1 mentre abbiamo già detto che di solito la serie di fibonacci comincia con l'uno quindi non mostro lo 0 allora facciamo così intanto mi creo una mia serie interna la chiamo serie int e questa serie se n sono i valori che io devo mostrare all'utente è composta invece da un valore in più che è lo 0 va bene? intanto la vado a dichiarare in questo modo qua cioè che cosa sto dicendo? sto dicendo a MATLAB o a Octave che internamente mi creerò mi vado ad inizializzare un vettore che è composto da n più 1 elementi quindi la serie che mostrerò all'utente che sta invocando la funzione conterrà solo n elementi però internamente per mia comodità me ne sto creando una interna composta da un elemento in più che mi servirà per mettere lo 0 all'inizio ed automatizzare meglio il codice che intendo scrivere questa inizializzazione può anche non essere necessaria però è una buona pratica di programmazione perché a tempo di esecuzione quando verrà invocata la funzione fibonacci e quando si conoscerà quanto vale questo n perché appunto l'utente ha invocato questa funzione MATLAB o Octave potrà da subito allocare una memoria nella RAM del computer e quindi allocare dello spazio già pronto per essere poi riempito con dei valori che al momento come vedete sono tutti 0 perché non conosco ancora quali saranno questi valori però poi successivamente verranno inizializzati con i valori della serie di fibonacci tra l'altro abbiamo detto che il primo valore di questa serie vale 0 quindi posso scrivere questa riga ma è superflua dal momento che serie int è già inizializzata a 0 quindi lo commentiamo giusto così per far vedere che ci siamo posti il problema ma non è il caso di ovviamente di eseguire questa istruzione e poi il secondo valore di questa serie va bene è uguale a 1 da questo momento in poi noi dobbiamo calcolare tutti gli altri valori della serie d'accordo? allora capiamo bene che serie int deve andare dal primo valore fino al valore n più 1 quindi io mi faccio un ciclo for con un contatore che va da 1 adesso poi lo sistemiamo quell'1 a n più 1 questi sono tutti i valori che devo calcolarmi in realtà l'utente non vuole tutti i valori n più 1 valori ne vuole solo n quindi poi dobbiamo vedere quale valore scartare in particolare dobbiamo scartare il primo valore di serie int perché 1,0 non ci interessa tra l'altro questo contatore va da 1 ad n più 1 ma in realtà noi i valori di serie int del primo elemento e del secondo elemento li abbiamo già calcolati quindi possiamo inizializzare questo contatore partendo dal terzo elemento in poi i primi due li conosciamo già ecco come si fa a questo punto? molto semplice perché io devo calcolare la mia serie int nella posizione cnt quindi a partire dalla 3 come somma di che cosa? dei due valori precedenti che sono quello in posizione cnt-1 e quello in posizione cnt-2 ok, ho calcolato la mia serie interna di Fibonacci a questo punto non è quella che io vorrei d'accordo? perché questa serie abbiamo detto contiene lo 0 all'inizio allora sarà sufficiente fornire in output all'utente la serie int che parte dal secondo elemento ed arriva alla fine d'accordo? abbiamo finito vabbè, ci sono altri modi per evitare di introdurre due variabili è anche insomma un peccato usare due variabili due vettori di lunghezza 1n e l'altro n più 1 per realizzare la serie di Fibonacci però ritengo che questo è un modo anche semplice per comprendere poi come impostare questa funzione e aprire, come dicevo, già la strada poi a implementazioni più smart sicuramente più efficienti bene, abbiamo terminato lo sviluppo di questa funzione adesso andiamo ad eseguirla nella speranza che funzioni avevamo detto che se eseguiamo la serie di Fibonacci con 6 numeri dovremmo ottenere questa serie qui va bene, proviamo ad eseguirla quindi qui ci metto n uguale a 6 ed effettivamente otteniamo i 6 valori che ci aspettavamo 1, 1, 2, 3, 5, 8 se la Fibonacci la seguiamo con solo i 3 valori otteniamo i primi 3 valori se chiediamo 30 valori della serie di Fibonacci vediamo che poi non è nemmeno tanto lento il nostro codice per quanto è inefficiente ed effettivamente qui ci troviamo 30 valori della serie di Fibonacci giusto come prova vediamo se questo valore è uguale alla somma di questi due precedenti quindi ci copiamo questi due valori e facciamo la somma otteniamo 832.040 ed effettivamente ci ritroviamo con il valore calcolato dalla nostra funzione bene, con questo è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione se vorrete aiutarci con commenti, like, visita il nostro sito grazie ancora e buona programmazione a tutti